Avete mai visto un cane con una bandana con sopra sushi e avocado? La bandana è proprio questa, ed è per Pippo e alla fine del video ve la mostrerò indossata. Oltre alla bandana ha scelto anche due portachiavi. Eccoli qui, un pastore tedesco e un labrador. Adesso andiamo a pescare gli omaggi. Questi saranno gli ultimi video dove pescheremo gli omaggi perché sono terminati. Vediamo cosa abbiamo trovato, uno scrunchie verde e una nappina viola. E ora è arrivato il momento di vedere la bandana indossata. Non è bellissimo?